Ti sposi? Hai paura di prendere delle decisioni sbagliate riguardo la musica per il tuo matrimonio? Vorresti evitare di fare il solito matrimonio banale e scontato? Benvenuto in questo video dove ti spiego come fare per ottenere quello che desideri. Ciao, sono Maria Rosa, cantante dei Senzatempo Live, team di intrattenimento per soli matrimoni con sede a Cosenza. Resta con me e ti svelo come puoi fare per rendere il tuo matrimonio una favola. Prima di tutto ti voglio dire che anch'io mi sono sposata e anch'io come te avevo tantissimi dubbi, perplessità e si sa bisogna fare tantissime scelte. Ma una cosa è certa, anch'io come te volevo un matrimonio unico, speciale e da sogno. Dalla mia esperienza ho quindi capito che per realizzare il matrimonio da sogno dobbiamo vederci chiaro sin dall'inizio. E anche io quando mi sono sposata mi sentivo come in un labirinto dal quale non vedevo via d'uscita, anche perché ogni fornitore elogiava il proprio servizio. E io mi chiedevo, ma qual è realmente il mio bisogno? Certo, sembra tutto facile, ma poi ti ritrovi anche a dover scegliere in base ai gusti dei tuoi genitori, degli amici, degli invitati. E tutto diventa un po' più complicato. Così, se all'inizio sembrava andasse tutto bene e tutto ok, ho iniziato a capire invece che le cose dovevano andare come io realmente volevo. E quindi ho deciso di prendere la situazione in mano e rendere il mio matrimonio unico e speciale, evitando un sacco di problemi che potevano rovinarlo. Ecco quindi che da questa mia personalissima esperienza, insieme a tutto il team dei Senza Tempo Live, abbiamo scritto questa guida facile e veloce che ti aiuta a risolvere i tuoi problemi musicali per rendere il tuo matrimonio veramente unico. Un matrimonio che unisce tradizione, innovazione e non è banale. In questa guida ti spiego quindi in maniera facile e veloce quali sono i tre step che devi assolutamente seguire. Per averla in modo gratuito ti basta cliccare sul link qui in basso e inserire la tua mail. Inoltre, se vuoi chiedere un ulteriori consigli, puoi tranquillamente mandare un messaggio sul nostro numero Whatsapp di cui troverai il link. E allora, non aspettare oltre, clicca sul link qui in basso e ci vediamo all'interno della tua posta elettronica. Ciao!